Oh, no, come gestiamo i falli, raga? Ok, nico. Lascia qua, te. Lascia. Vai. Luca, le palle centrali quasi mai, Luca. Vai, vai. Sempre qua, sempre qua. Guarda, c'è stato l'esterno, tutti. Sinistra, centro pure. Guarda, sull'esterno, centro è visitato, tutto. Va bene. Buona mano. Vai. Tu, 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 tu. Ti rimaniamo, piccola. Sinistra, sinistra. E la mangiare, la mangiare. Lascia qua, qui. No, anche le lascia. Buon vicini. Buona, amico. Buona, Marco. Signore, è in porta se non la prende con la mano, signore. Bravi, bravi. Girata, la girata. Buona, Marco. Buona, Marco. E' un progetto! E' un progetto! E' un progetto! E' un progetto! Perfetto! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 forse. a tutti. . a tutti. a tutti. . a tutti. . . a tutti. . . Buona C! Vai Marco! S'è fuori! Buona Gallo! 7-3 Tomome! Yup! 2, 2, 3 Yay! absolu Kami! La pittola! La pittola! La pittola! La pittola! La pittola! Ando! 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 Vai ando! Si, ma... Pelleta, pittola, qui! Chi, ma.... Chia va, non mi sa fare la pittola. Si, ma la, non mi sa fare la pittola! A para... Ah, c'è... Ok, ora si, gira. Non ha fatto anche la doppia. Ha fatto anche la doppia. Nel altro partito, hanno fatto i tiri e hanno segnato. Già non esiste assolutamente. Ci sono, ci sono più, ci sono più sbagliato. Ci sono qua a casa. Andiamo in giocattia. Allora. Allora. Allora, come la metà? Allora, non c'è. Allora, non c'è pure il primo. Allora, non c'è più il primo. 7 a 4 per il Barcellona sul Baramara